cari amici dell'olivetto di san graso benvenuti oggi voglio farvi vedere una sorpresa insomma ma che sono cose che fanno sempre piacere questa pianta qui vi spiego era stata messa a dimora avevamo messa dimora nel 2018 l'abbiamo spiantata in un giardino e l'abbiamo portata qui insomma perché non poteva più stare che si espandeva troppo e crea problemi con il confine diciamo di dove era messa ebbene tra febbraio e marzo del 2018 l'ho messa qui a dimora l'ho tagliata come voi la vedete insomma come mi hanno detto di fare un potatore esperto della scuola un potatore olivi e mi ha detto insomma di fare questo tipo di procedura quindi sotto tutte le radici possibili in sostanza lui mi ha detto di lasciare solo il tronco con queste due queste tre diramazioni che poi insomma da cui in teoria poi sarebbero partiti diciamo i rami delle branche secondarie nel 2018 insomma si riprese subito e mise tutti questi rami qua insomma un po' di foglie nel 2019 rimase fermo non successe assolutamente nulla se non che diciamo resistettero solo quelle foglie un po' più grandi lì sotto che voi vedete e poi vedete anche le gemme nuove queste sono spuntate adesso io me ne sono accorto più o meno una settimana fa quindi sorpresa sorpresa insomma la pianta è viva e adesso ripartirà e credo che riprenderà la sua vita insomma ricostituirà faremo in modo di fargli ricostituire questi le tre branche insomma del vaso policonico per cui insomma guardate le gemme ecco guardate le gemme nuove e le foglie ancora vecchie quelle lì sulla destra insomma questa è una cosa che ci tenevo a farvi vedere perché sempre gli olivi sorprendono sempre ma la natura in genere sorprende sempre ecco va bene adesso niente seguiamo un attimino lo sviluppo credo che insomma entro fine giugno rimetterà di nuovo un impalco di rami nuovo e poi insomma vedremo un attimino poi di di allevarlo come come gli altri io per ora vi saluto vi invito a iscrivervi sempre al canale l'olivetto di sangrato e la meccanica agricola e poi c'è anche insomma un piccolo canale telegramma dove insomma rimolendo si può discutere di molte cose inerenti alla olivicoltura comunque è anche quello che riguarda un po l'agricoltura in genere va bene io vi saluto e ci vediamo i prossimi video a presto